Varela dentro il pallone, anche perché c'è Brozovic libero, Brozovic, gran chiusura di Bremer, possiamo partire in contropiede, avvenzionare la Juventus con Di Maria, Di Maria la tiene, Di Maria con l'esterno per Kostic, 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 Kostic ancora dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioni! 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 Allora ritorna indietro, croce centrale di Dybala, attenzione, palla lì al volo, Brozovic, gol! Goal! 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 La Juventus! Douglas Costa vuole andare a traversare, finta e controfinta, Douglas Costa con l'esterno, chiama in causa, Juan Quadrado, la ferma, può andare a crossare ancora, la crossa in mezzo, ma Tui D, attenzione, si abbassa Douglas Costa, Douglas Costa! La Juventus ha il vantaggio, minuto numero 13, cambia il parziale San Siro, il 2-0, Juventus 1, Douglas Costa! La Juventus, in aANDare, finta e controlli, a la giver che viene a riscaldar! Una nuova, un paese, è una nuova! La Juventus ha il vantaggio, il 2-0, Juventus ha il vantaggio, il 5-0, Juventus ha il vantaggio! Un paese, il 4-0, Juventus ha il vantaggio, il 4-0, Juventus ha il vantaggio, va la gioca, il vantaggio, minuto numero 14, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.